Buongiorno signore e signori, il mio nome è Mike, senza nome e vi do il benvenuto a un altro episodio di Thief Simulator Se fino a qualche giorno fa i miei vicini mi sentivano parlare di cadaveri, adesso mi sentono parlare di svaliggiare case di rubare, derubare, fare cose insomma poco simpatiche e decenti E detto questo dovete immaginare che Mike è tornato per un altro episodio E' tornato di nuovo dagli Smith al 101 dove noi possiamo finire di derubare Orcocan E l'ho dimenticato, i sviluppatori hanno aggiornato il gioco dopo che l'han rilasciato Hanno sistemato i bug che abbiamo visto negli ultimi due episodi Ma non solo, hanno anche fatto un sondaggio dove chiedevano cosa volete che venga introdotto nel prossimo patch E la risposta a gran voce di tanti è stata essenzialmente una nuova macchina Nuovi oggetti da svaliggiare L'introduzione di elementi tipo salute e vita e cose del genere Oppure prendiamo la tv, questa la tv va benissimo sempre Perché siamo tornati dagli Smith direte Ma in realtà siamo tornati dagli Smith perché dobbiamo rompere i bicchieri Ops, si ecco così si mette bene giù la tv I bicchieri che dovrebbero essere questi, ok? Ma che problemi hai? Oh ma nell'immagine erano questi i bicchieri Nell'immagine erano questi i bicchieri Perché non si spaccano dannatissimi i bicchieri? Cos'è? Questa pane, 70 dollarozzi, non ho preso sta pane Oh cane, ci piace allora Un microonde, 90 addirittura E che occupano tanto spazio Io preferisco concentrarmi sulle cose piccoline Perché non posso più aprire tutta sta roba? Attenzione, un'altra cassaforte Subito la cassaforte, apriamola Ok, 53 Orko Khan, 53, 48 Non potevano essere più distanti Non avevo messo niente lì dentro Metti nello zaino Ma chi è che lascia le lattine per terra? Ma che siete scemi? Alimentazione dell'allarme Interagisci Ok, non so ancora fare queste cose Devo livellare il mio bel personaggio Per poter fare tante cose carine e coccolose Ma al momento non so farle Ok Telefono mattone Soldi E freghiamo tutto Andiamo, andiamo 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 che si ripristina la corrente Prendi sta tv e andiamo via per favore Ok Perché Mike a sto giro si è fatto furbo Per modo di dire E ha parcheggiato la macchina dall'altra parte Quindi abbiamo si derubacchiato un pochettino Lee Smith Nuovamente La verità è che potrei tornare Dentro la loro casuccia Di conseguenza A me sembra Che questo bug della polizia Sia ancora Lì presente Perché Adesso non vorrei essere Offensivo Però Mi sembra tanto che Come dire Ho chiamato la polizia Nasconditi o scappo Ma in realtà Nessuna polizia è stata chiamata E questa cosa non va bene Nonostante loro abbiano affermato Di aver sistemato un sacco di bug Un sacco di bug Ma vedi perché non parco giù a macchina lontana Perché non ho ancora preso il talento Che mi permette di camminare velocemente E quindi Ammiriamo la luna A tempo che arrivo alla macchina Finita quindi la missione Con un bolo di invisibilità Dello zero Perché Perché c'è il bug Presumo Perché forse Perché ho lasciato la porta aperta La videocamera Ha visto qualcosa Non riesco a capire il perché Onestamente Però Devo andare A fare una cosa Figherrima Di cui non vi ho parlato Nel scorso episodio Ma adesso Sulla terra Grazie bello Grazie Allora A tv700 Ne è valsa la pena Tutte le altre robe Le vogliamo vendere Ok I pad I pad vanno sempre Divinamente Si vendono per un sacco di soldi E adesso E adesso noi Che abbiamo fatto Un altro 1.500 Vi faccio vedere Perché Io In qualche episodio fa Mi stavo lamentando Del fatto che magari C'è una Piccici Pamp Carenza di Contenuti Capito Invece abbiamo una Richie Rich Street Arriviamo Quindi Da Richie Rich Street E Da Richie Rich Street Noi ci troviamo In un nuovo Completamente Nuovo Quartiere Dove c'è un sacco di gente Mi aspetta che ci sia Una difficoltà Maggiore E che cacchio è sta roba Un campo Di qualche tipo E poi qua C'è un altro campo Di qualche tipo E poi Qua Siamo davanti al 204 Che è questo Il 204 Devo arrivare a mettere Quella roba nel cassetto In maniera Indisturbata Allora nel parcheggio Vicino a casa Mike decide Che è il caso Di lasciare giù La macchinina Nel frattempo Andiamo su Abilità Vediamo che abbiamo Punto abilità Ma Mi servono due punti abilità Praticamente per tutto Oltre al fatto che mi serve Il livello 20 Quindi dovremmo tirarci su E Richie Street Street I Patterson Dei Patterson Non sappiamo Niente Mi paga 1.6 Se faccio Questo mega Lavoretto Io avevo anche Come si faceva Il binocolo Tasto centrale Del mouse O il cocco Allora Inventario Oggetti B B B B Binocolo Eccolo qua Scelta rapida Laggiù Così adesso Mike Bam Si equipaggia Col binocolo Quindi Mike Decide di andare Quassù nel parco Così In maniera Totalmente Disinteressata E vedere Se c'è Qualcuno C'è Nessuno Laptop da hacker Hai detto Bloccato Cosa cazzo Sto tenendo Lo strumento Di un ladro È un binocolo Zio Pino È un binocolo Poi perché sono in alto Ah ok Sono sulle scale Cioè io non so Sto tenendo Gli strumenti Di un ladro È un binocolo Allora Dobbiamo entrare In questa casa Casa avanzata Messa la Videocamera Valutiamo Eventuali Altre problematiche Che la casa Potrebbe avere Ok Facciamo un giretto Così di notte Intorno a casa Ovviamente Le tapparelle sono giù Ci siamo mai Abituati Come avete visto Comunque c'è stato Un aumento graduale Della difficoltà Cosa che non avrei Immaginato Nel senso che Se era solo quel quartiere Mi sembrava abbastanza Povero di contenuti Invece Eccola là La telecamera E non è per niente Povero di contenuti Anzi Questo implica Il fatto che io Non posso passare Qua dietro A meno che Non stacco La corrente Abbiamo messo La nostra bellissima Videocamera Allora io direi Che è il caso Di andare a vedere Un po' Gli altri vicini Del quartiere Ma che case C'hanno A ste parti Porca la vacaccia Madonna che ricconi Addirittura Le cose Oh crococan Addirittura Madonna Quante telecamere Che abbiamo Però eh ragazzi Una qua Ma sei idiota Quale cosa Si complica Non diventa Tutto molto Più difficile Tutto Molto Più Difficile Soprattutto Sto tenendo Lo strumento Da ladro Ma va a fare Un brodo Va tu e il tuo ladro Eccolo Ma che bello Che sei Juan Ti chiamerò Juan Ok c'è qualcuno Che è fuori E qualcuno Sul retro Della casa Dai stiamo imparando Qualcosina Su di loro Mi auguro Che in casa Loro Ci sia pien Così di bottino Il problema è che c'è una macchina piccola Capito Fino a quando non aggiungeranno Una nuova Patch In modo che insomma Si possa Spompensare Questa Questa non la vedi Oh Cioè tra l'altro Nel gioco Per chi non lo sapesse Esistono anche Vari livelli di difficoltà Può essere anche Che si faccia Un Un gioco A maggiore Difficoltà Capito E allora Non abbiamo tutti questi aiuti Tutte queste cose Cioè ad esempio Che quando sono in casa Mi dice dove stanno le persone Oppure Che ne so Esattamente Perché mica lo sto usando Quella modalità Allora Stiamo facendo un giretto così Per vedere Giusto perché Vogliamo osservare Come stanno Le altre Famiglie Qua in zona Questa mi sembra La famiglia dei Poracci Nel senso che È l'unica famiglia Che Innanzitutto Posso Avvicinarmi A vedere I Washington Che cosa fanno Poi Non hanno Videocamere Di conseguenza Penso sia una Delle mie Prime Case Che andrò a svaliggiare Nel nuovo Completamente In Quartiere La gente Mi guarda Perché corro Non sono abituati A vedere gente Che corre in giro Per il quartiere È abbastanza Naturale Nell'habitat Nell'habitat naturale Dei ricchi Di solito La gente Cammina Oppure Oppure Ci stanno I servi Della gleba I plebei Chiamiamoli così Che prendono I ricchi in braccio Corno con loro Perché i ricchi Non sono abituati Avete visto Qua in giro Per il quartiere Se corri Sei sospetto Allora Dormiamo in auto Dormiamo fino alle 8 Di domani mattina Grazie Potevo fare altro Magari In altro quartiere Ma Vedete che Ah Abbiamo saltato proprio Cioè Con l'ultima pace Hanno proprio rimosso Tutta l'animazione Ok Dove cacchio è la casa Qua O forse O forse Non ha dormito Cioè Ha dormito tipo 30 secondi No 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 Forse non ci siamo capiti Ok No Non ci siamo capiti Allora Molto bene Dormiamo fino alle 6 O 7 Così Ok Vediamo se adesso Sappiamo qualcosa Su di loro Routine quotidiana Degli inquilini Questo lo sappiamo Sappiamo che sono in cucina E in bagno Sappiamo che sono là Allora Un piano di lavoro Per Mike Ragazzi Un piano di lavoro Per Mike Implica che lì c'è una Videocamera Che nessuno ha visto Perché non me l'avete segnalato Che cacchio Sto usando un attrezzo Da ladri Hai ragione Sto usando un attrezzo Da ladri Si è risaputo Che non si può neanche fare Birdwatching Sono in mezzo al parco In mezzo agli alberi Non posso fare neanche Birdwatching Perché è uno strumento Da ladro il binocolo È risaputo Marca Zio Pino Giuro che vengo lì E ti riempio di mazzate Ma tante di quelle mazzate Tu e il tuo strumento Da ladro Allora Grimaldino automatico Entriamo dalla porta principale Ma dalla porta principale Non possiamo entrare Quindi Se è vero quello che si dice Ovvero che i Patterson Chiudono La La casuppola Quando vanno via Di casa Sarà il caso Di agire come dall'altra parte Quindi entrare In anticipo E dopo dovremo Tipo uscire Quando loro tornano Qua mi sembra Che ci sia Giusto Un giusto armadio Una videocamera Che ha un raggio Infinito Quindi Mike Per qualche motivo Decide di anticipare Un po' i tempi Decide di Portarsi Avanti Nel frattempo Ci stanno questi signori Che devono passare Ovviamente Allora aspettiamo Prima che arrivi Quello lì Apri Non ci facciamo Vederla Quelli in strada Orco Ma che cazzo Non ci facciamo Vederla A questi In casa E Entriamo In casa Loro sono in casa Noi questo sappiamo E quindi Ci nascondiamo Qua Ci nascondiamo Qua Il piano Finora sta andando Bene Dobbiamo aspettare Giusto Sapete Qual paio Dovrete Così Chiuso nell'armadio E sperare Che non ci servono Un paio Di mutande nuove Se no Gli tiriamo Una mazzolata In testa E ce la andiamo Via Ore 11 Adesso se ne vanno Uno dei due Quanto meno Urca Che bella chitarra Che ci avete Qua Nel coso Molto bene Il signore Se ne va Mi rimane Questa Signorina Che gira Per casa Ok Entriamo in azione Entriamo in azione Vediamo un po' C'è la cassaforte Assolutamente Assolutamente sì Apriamo la cassaforte Vediamo cosa troviamo Una cassaforte Sarà interessante Trovare Le chiavi Della casa Però Mi sa che Chiedo troppo Un vaso antico Che tengono Un'altra cassaforte Un'altra cassaforte Guarda che Guarda che roba Guarda che roba Oh oh Pannelli di sicurezza Dele telecamere Mi serve L'elettronica di livello 2 Per poterla Sfruttare Un altro telefono La sto prendendo Con estrema calma Signori Con estrema calma Anche perché Sono convinto Urca Tablet Le no Le vono Le ovo Quella roba lì Insomma Macchina Finito lo spazio Finito lo spazio Utile Cosa c'hanno in frigo C'avete qualcosa di buono Da mangiare Capetta usb La prendiamo sempre Ricordatevi sempre La macchina di caffè Ragazzi La macchina di caffè La macchina di caffè Vale un sacco Allora I signori sono quasi tornati Ma Hanno scoperto il furto No dai Chiudiamo tutto qua In modo che non sembri Neanche abbastanza derubato A parte quella coppa per terra Che probabilmente Sua moglie Ha lasciato in maniera sbadata Chiudiamo un paio di stanze Così Non ci sbagliamo Ho derubato praticamente tutto Non c'hanno il garage Questi qua Sì eccolo qua Ok Non ce l'avete la chiave Da nessuna parte Niente Niente chiave Chitarra elettrica Posso fregargli La prossima volta È tempo di Darsi la gambe adesso Eccola là La signora è rientrata La signora è rientrata E c'è un sacco di gente In strada Ma questo è il mio momento Finita anche questa missioncina qua E andiamocene a casa Col vaso antico Andiamocene a casa Col vaso antico Yo 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 Prima che scattino i bug E ci veda il mondo intero Andiamocene via Prima che scopra il furtarello Dove siamo qua? La quartiera di Ricci Ricci Il nuovo quartiere È incredibile Signore e signore E usciamo Mamma mia Non ci ha visti Assolutamente nessuno Bonus per disabilità Vieni e 4 Ok Molto ma molto bene Il vaso elettrico E il vaso antico Il fatto che ci sia il coso qua Significa che probabilmente Sono richiesti sul mercato nero Parliamo con Vini Ok Imparo subito l'elettronica per te Perché sono un mastro elettronista io Elettronica a livello 2 Mi servono Giusto giusto 100 punti esperienza Per imparare Elettronica a livello 2 Allora Non si può imparare Facciamo un corso veloce online No? Niente? Niente? No 14.000 Mi serve il PDA da hacker Porca la vacaccia Allora i cambi Cucina Altro Oggetti D'antiquariato Il vaso antico Vale 2000 La radio antica La radio antica 11.000 Ragazzi Ah che roba Registratore di casa Antico Addirittura Dove lo trovo io I Johnson 102 No Voglio vedere Rich baby Possibile ubicazione del bottino 400 200 I Reed Dove sono appena entrato? No I Patterson Sono appena dove sono entrato Postere d'epoca Nella camera da letto I Patterson Dai Washington Le finestre Con rilevatore di taglio del vetro Oh oh Interruttore per aprire il cancello E in cucina Quante cose che si imparano Possibile ubicazione del bottino Quindi dai Washington Non possiamo entrare dal vetro Dai Washington Però potremmo entrare Vediamo Un orologio costoso nel garage Grande pentola antica nel corridoio A pentola antica ragazzi A pentola antica Sedia antica nel corridoio Violino antico in camera da letto Vaso antico nella cassaforte in camera da letto Ok Abbiamo imparato un po' di cose Sì Tre Signori Che conosciamo Su Richie Rich Rompi un nano da giardino Rompi un ruolo Dipinto Leonessa Dai Washington Va bene Va benissimo Così Dobbiamo fare un sacco di cose Un sacco di big money Tanto ho speso praticamente 5000 dollar Anzi Per imparare cose nuove sui vari posti Incredibile Diventa veramente tosta adesso Vediamo tutta questa roba Telefon Madonna Dovevo sbloccare La iMac 800 La tastiera Ah troppo pochettino I telefoni I telefoni sono big money Ma sono bloccati Perché sono un piccio E mi sono dimenticato Un piccio banana Come direbbe qualcuno E allora adesso Torniamocene a casa E hackeriamo il tutto Attenzione Sembra che sia diventato più complicato O forse sono io che sono più complicato Complicato da capire Cerchiamo di fare questo puzzle Questo puzzle è ben complicato ragazzi No non devo arrivare Cioè non posso venire così Perché questo pezzo Deve arrivare quindi ovviamente dritto Per arrivare dritto Devo essere già dritto da qua Qualche parte in mezzo Allora Per arrivare dritto lì Devo andare qua così Poi qui giriamo cos'ha Il problema di questi pezzi qua Anche dopo vedi Ti fanno girare E poi però Mike riesce comunque Perché fa il giro E riesce A sbloccare tutto Se le azioniamo anche Questo coso qua Peccato che non ti dia esperienza Per quando fai queste cose qua Quindi ovviamente anche qua Essendo che l'ultimo pezzo È dritto in uscita Dobbiamo fare Un pezzo dritto in uscita Chiaro? Dunque così E quindi qua Ci giriamo di cos'ha Vediamo da che parte Mi conviene Mi conviene forse andare in giù E poi tornare indietro su Chiaro? Ok Basta solo capire il trucchetto E poi È tutto in discesa Dobbiamo arrivare lassù Molto bene Pezzo dritto di nuovo Di conseguenza Dovremmo essere già dritti Sul rettilineo Quindi così Questo adesso mi spinge in giù Ma io Ho bisogno di spingerlo in su No Questo mi spinge in giù Quindi questo lo facciamo così Questo però Adesso mi crea problemi Se io lo faccio così Invece Dove andare fin lassù Per poi tornare di qua E poi E che cacchio No Invece di qua Prova che deve essere dritto Qua Questo per forza in su Se no andiamo fuori Eccola qua Giro dall'alto Così Arriviamo qua Qua ci giriamo così E bam baby Completato anche questo È bello perché Si sono diventati un po' più complicati Questi puzzle Quindi qua possiamo arrivare O da sotto O da sopra O da davanti Anzi no da sopra O da sotto E basta perché Anzi O dietro Insomma possiamo arrivare Da un sacco di punti Un sacco di posti Importante è arrivare Eccolo là Questo è stato easy Easy peasy Easy peasy Baby Squeezy Let me squeezy Oh yes Allora Ok Molto chiaro Welcome back Welcome back Welcome back to you I'll be using you And I listen to me E adesso devo fare un po' di punti esperienza Quindi torniamo da Richie Rich E vediamo di derubare Quello che ci manca a derubare Della casa di quei signori lì Anche se potremmo andare nella casa di qualcun altro Però Credo proprio che lo faremo Nel prossimo episodio E lo sto dicendo finché sto facendo il caricamento Molto bene Credo Come stavo dicendo Che nel prossimo episodio Faremo Perché c'ho la freccia e non gira a sinistra Un brutto bastardo Eh Nel prossimo episodio Andremo di nuovo A da Richie Rich Andremo a tirar su un po' di potenza Un po' di energia Un po' di Capito Il Paterson adesso sono lì Che sta andormichiando E allora Noi volevamo Vedere Visto che ci siamo Prendiamo la nostra bella microcamera No? Dove cacchio è? Urca Eccolo qua Sì ma questi non ricevono posta Non c'hanno manco il campanello Che sfigati Però questi che sono in Washington Possiamo piazzare la videocamera Microcamera lì Ok? Così adesso Siamo pronti per sapere i loro più loschi segreti Detto questo ragazzi Ovviamente vi ringrazio Per l'attenzione Sono Mike senza nome Spero di vedere il prossimo episodio Se vi è piaciuto Ovviamente Condividete il verbo E ci vediamo Prossimamente Mike senza nome Passo e chiudo Ciao